Venite a vedere cosa è successo in questo negozio e che novità ci sono. Ciao Alberto, sono da Nutella. Ciao, ciao. Allora, come va con questa nuova attività? Benissimo, questa nuova attività. La trovo molto bene. Vi stai organizzando? Sì, esattamente. Perfetto. Ho visto che tra l'altro avete inserito dei prodotti nuovi. Oltre ai classici da banchi, diciamo, gratinici e i giochi lotto super in a lotto, abbiamo anche cioccolata della Venchi, un po' di... Ho visto le barbie, ho visto... Ho visto un po' di giochi per i bambini. Bene, bravi, bravi. E come vi siete trovati con me quando vi ho fatto la trattativa? Molto bene, bravissimo, Alberto Bernardi. Grazie. Ma siete pronti per fare l'inaugurazione? Esattamente. Quando? Sabato 9 dicembre, dalle ore 16 siamo qua per brindare tutti insieme. Quindi tutti siete invitati a venire a vedere questo nuovo negozio, questa inaugurazione. Complimenti. Grazie.